Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi e non le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estretta la tua mano materna, abiterai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esse. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a far mia la vita per fiare il supremo. Voglio essere il tuo peco nel diffondere su tutto l'amore divino e chiederti per tutti il tuo regno. Mio Dio, ti do il mio volere, mio re. Mio Dio, ti do il mio volere, mio re. Dio, ti do il mio volere, mio re. Mi do il mio volere, mio re. Dal libro di Cielo, volume terzo, capitoli 26, 27, 6 e 8 gennaio del 1900. Questa mattina ho fatto la comunione ed essendomi trovata insieme con Gesù ci stava la mamma regina. Ed oh meraviglia, guardavo la madre e vedevo il cuore di lei trasmutato in Gesù il bambino. Guardavo il figlio e vedevo nel cuore del bambino la madre. In questo mentre mi sono ricordata che oggi era l'Epifania, ed io ad esempio dei magi dovevo offrire qualcosa al bambino Gesù, ma mi vedevo che non avevo niente da dargli. Allora, vedendo la mia miseria, mi è venuto il pensiero di offrire per mirre il mio corpo con tutte le sofferenze dei dodici anni che ero stata nel letto, pronta a soffrire ed a starvi quant'altro tempo a lui piacesse. Per oro, la pena che sento quando mi pria della sua presenza, che è la cosa più penosa e dolorosa per me. Per incenso le mie povere preghiere, unite a quelle della regina mamma, a ciò che fossero più accettevoli al bambino Gesù. Onde mi ha fatto l'offerta con tutta la confidenza che il bambino avesse tutto accettato. Gesù pareva che con molto gusto accettasse le mie povere offerte, ma quello che più gustava era la confidenza con cui l'avevo offerta. Onde mi ha detto. La confidenza ha due braccia. Con uno si abbraccia la mia umanità, e della mia umanità se ne serve come scala per salire alla mia divinità. Con l'altro si abbraccia la divinità, ed a torrenti vi attinge le grazie celesti, sicché l'anima vi resta tutta inondata dell'essere divino. Quando l'anima è confidente, è certa, di ottenere ciò che domanda. Io mi faccio legare le braccia, le faccio fare ciò che vuole. La faccio penetrare più dentro il mio cuore, e da essa stessa faccio prendere quello che mi ha domandato. Se ciò non facessi, mi sentirei in uno stato di violenza. Mentre ciò diceva, dal petto del bambino e da quello della madre uscivano tanti ruscelli di liquore. Ma non so dire proprio come si chiamava quello che dico liquore, che tutta mi inondavano l'anima. La regina madre è scomparsa. Dopo ciò insieme col bambino siamo usciti fuori nella volta dei cieli. Il suo grazioso volto lo vedevo mesto. Ho detto fra me, forse vorrà le carezze della regina mamma. Allora me lo sono stretto fortemente al cuore, Gesù bambino ha preso un aspetto giurivo. Chi può dire ciò che passava tra me e Gesù? Non ho lingua a saperlo manifestare né vocaboli per poterlo descrivere. Stavo pensando tra me, chissà quanti spropositi, quanti errori contengono queste cose che scrivo. Mentre mi sono sentita perdere i sensi ed è venuto il benedetto Gesù che mi ha detto, figlia mia, anche gli errori gioveranno. E questo a far conoscere che non c'è nessun artificio da parte tua, né che tu sei qualche dottore, che se ciò fosse, tu stessa avresti avvertito dove erravi. Questo pure farà risplendere di più che sono io che ti parlo, vedendo la cosa alla semplice, ma però ti assicuro che non troveranno l'ombra del vizio e cosa che non dica virtù, perché mentre tu scrivi ti sto io stesso guidando la mano. Al più potranno trovare cosa che a primo aspetto parrà errore, ma se la elimineranno ben bene, vi troveranno la verità. Detto ciò è scomparso, ma dopo qualche ora di tempo è ritornato ed io mi sentivo tutta titubante ed impensierita sulle parole che mi aveva detto e lui mi ha assoggiunto. Il mio retaggio è la fermezza e la stabilità. Non sono soggetto a mutamento alcuno. E l'anima quanto più si avvicina a me sinoltra nella via della virtù, tanto più si sente ferma e stabile nell'operare il bene. e quanto più sta da me lontana, tanto più sarà soggetta a mutarsi ed a traballare ora al bene ed ora al male. Sono bellissime queste due capitoli, queste due fonti di meditazioni. bellissime affrontano tanti temi di cui certamente ce ne sono alcuni dominanti e importanti specialmente per chi percorre la via ordinare di santificazione che è la preparazione, dovremmo aver capito, al dono della divina volontà che è appunto una forma sublime, divina e unica di santità e che la presuppone come base. Ora, qui innanzitutto ci sono dei misteri molto importanti che è un po' la premessa da approfondire. Guardavo la madre e vedevo il cuore di lei trasmutato in Gesù bambino. Attenzione però che guardavo il figlio e vedevo nel cuore del bambino la madre. Cosa significa questo? Significa che la quintessenza della santità di cui la Madonna come regina dei santi è l'emblema, il modello ed esempio straordinario, non è altro che la trasformazione del nostro cuore in quello di Gesù. C'era un grande padre della Chiesa orientale che è San Giovanni Crisostomo che era devotissimo dell'Apostolo San Paolo che amava definire l'Apostolo in questi termini il cuore di Paolo era il cuore di lui. Cioè di lui inteso come Gesù. L'Apostolo preso dall'amore verso Gesù e dallo zelo era diventato un altro Gesù come lui stesso ebbe scrivere tra l'altro con le sue lettere non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. Quindi questo vuol dire che la madre aveva il cuore di lei trasmutato in Gesù il bambino però attenzione guardavo il figlio e vedevo nel cuore del bambino la madre. Quindi vuol dire che nel cuore di Gesù la creatura assolutamente prediletta era Madonna in quanto piena di grazie. E quindi come dicono i maestri di spirito che la devozione alla Madonna è un segno di predestinazione perché non può non essere sommamente devota alla Madonna chi è unito a Gesù. è impossibile perché se il tuo cuore si trasforma nel cuore di Gesù certamente nel tuo cuore ci sarà viva e presente la Madonna non solo ma la Madonna può e deve ed è auspicabile che sia essere con lei da cui ci facciamo portare nel cuore stesso di Gesù perché nessuno come lei li abita e nessuno come lei meglio lo conosce. Questa è la premessa poi c'è l'episodio proprio del giorno dell'Epifania di questa triplice offerta di Luisa no? Le sofferenze a cui la divina volontà la chiamava quindi l'infermità di già 12 anni allora se ne sarebbero stati molti altri nel letto l'oro quindi la penitenza più grande l'abbiamo già visto tante volte per queste anime che è la privazione della presenza di Gesù e poi l'incenso che è la preghiera unita a quella della Madonna dopo che Gesù ha accolto queste offerte mostrandosi molto felice di esse fa la sua lezione sulla confidenza confidenza confidente viene da fidente quindi c'è la stessa radice di fede ecco fidescum sarebbe etimologicamente quindi credo insieme la confidenza permette di penetrare dentro il cuore stesso di Gesù ed è come dire il compimento ultimo della fede perché per mezzo della fede noi anzitutto facciamo nostre delle notizie delle informazioni delle verità come insegna la chiesa che ci trascendono quindi innanzitutto la fede parte come fenomeno intellettuale perché è l'assenso dell'intelletto mosso dalla volontà che lo spinge a farlo nonostante la non evidenza delle verità in quanto autorevole e senza errore colui che rivela che è Dio nella fede parte un processo anzitutto volitivo intellettuale però la fede poi deve scendere nel cuore perché quella fede non può e non deve rimanere una arida e fredda conoscenza di verità questo è quello che dice l'apostolo San Giacomo dice tu c'è la fede pure il demonio c'è la fede la fede che c'è il demonio è molto più grande della nostra perché lui le verità di fede non solo che le crede fermamente ma le conosce tutte quindi ne sa anche penetrare l'intima verità ma il diavolo non c'ha le opere ovviamente no che è il primo passo diciamo così del compimento della fede San Giacomo stesso dice che la fede senza le opere è morte che tu credi e non vivi coerentemente con quello che credi è una fede completamente una fede simile a quella del demonio i credenti non praticanti sono simili al diavolo perché ne riproducono lo stile di credere senza operare credere non praticare vuol dire non praticare la fede è già una contraddizione in termini ma quando il percorso è ordinario quindi alla fede seguono le opere e alle opere segue una profonda e progressiva confidenza in Gesù che si alimenta ovviamente attraverso la preghiera perché se il giusto vive di fede progressivamente comincerà di intessere un tale rapporto intimo con Gesù appunto da diventare lui il suo miglior amico questa è un'altra base imprescindibile per la vita nella divina volontà come sappiamo che è tutta interiore e che è tutta vissuta in questo perpetuo interrotto dialogo di offerta di amore di ringraziamento di supplica di tutto ecco non c'è più nulla ecco che non entri dentro questo dialogo non sempre esplicito ma comunque sempre interrotto come un filo collegato alla sorgente di corrente tra l'anima e il suo signore e dal momento che è un dialogo è una intimità fondata sull'amore che è sempre meglio conosciuto cioè l'anima conosce quanto Gesù la ami quanto bene voglia per lei è un dialogo appunto confidente nel senso che l'anima proprio senza dubitare senza esitare si getta proprio con estrema semplicità nelle braccia di Gesù ecco dobbiamo subito chiederci insomma attenzione che questa è una confidenza santa non è la confidenza grossolana ecco di quelli che vanno dicendo che Dio è il nostro amico e quindi non serve a ginocchiazzi davanti al tabernacolo questa non è niente a che vedere con la confidenza santa la confidenza santa a quest'ambiente appunto Gesù spiega un duplice un duplice termine di riferimento che è l'umanità di Gesù che la si abbraccia appunto come scala per salire alla sua divinità sia imitandola sia utilizzandola come fonte di mediazione e con l'altro si attinge alla divinità e tra torrenti vi attinge le grazie celesti quindi siccome Gesù è Dio attraverso la confidenza io chiedo come dice Giulio nel Vangelo quando chiedete una cosa fate come se l'aveste già ottenuta e quella cosa vi sarà data anche quando sono grosse domande grosse richieste non solo la confidenza fa penetrare sempre più Gesù nel suo cuore addirittura le faccio fare quello che vuole cioè quando si diventa veramente amici e intimi del Signore si assistono a delle cose insomma si assistono a delle cose che sono assolutamente anomali inedite ecco perché come raccontano i maestri di spirito Gesù stesso vuole concedere all'anima la libertà di fare quello che vuole quindi vedete che succede quando si fa la volontà di Dio quando si fa la volontà di Dio Dio come dire a seconda la nostra perché succede una sorta di anticipazione certamente alla lontana di quello che accade nel paradiso non so se qualcuno ci ha mai pensato ma noi in paradiso faremo sempre la nostra volontà come in paradiso faremo bisogna capire il senso di questa espressione perché la nostra volontà è fusa in paradiso veramente senza nessuna possibilità di allontanarsi con la volontà divina tale che forma una cosa sola per cui non ci sta nessuna opposizione è qui che può crearsi un'opposizione anzi spesso si crea tra la nostra volontà e quella divina ma in cielo questo non esiste perché c'è una fusione completa della volontà dell'anima beata in quella divina e quindi che significa che tutto quello che tu vuoi è buono ed è voluto ipso facto da Dio le cose si capiranno bene quando si viveranno e quindi anche se si fa sempre la volontà di Dio in realtà si fa sempre la volontà tua quando Gesù dice le faccio fare quello che vuole è chiaro che Gesù supponiamo una cosa pazzesca se l'anima volesse peccare che glielo fa fare certamente no le fa fare quello che vuole perché a questo grado di confidenza l'anima non può distaccarsi considerevolmente dalla volontà di Dio ed ecco diciamo la bellezza più desiderabile di questo stato di unione con Gesù e poi ci sono questi misteriosi ruscelli di liquore che escono dal petto del bambino della Madonna queste cose sono conosciute anche questa in mistica ne parla esplicitamente Santa Margherita quando racconta l'esperienza dello stare a contatto con la ferita aperta del cuore di Gesù parla di questo liquore dolcissimo e buonissimo che lei stessa beve a larghi sorsi e per molto tempo che chiaramente racchiude sicuramente un liquore reale quindi sensibile come il latte della Madonna di cui molto spesso arrabiano la bocca di Gesù come ci informa Luisa che però oltre a quel profondo diciamo così piacere anche sensibile che ti arrega entrarne in contatto delizia in maniera a noi non comprensibile l'anima ultimo tratto l'aspetto tenerissimo Gesù che pare come mesto e Luisa l'abbraccia quindi vediamo questa confidenza porta diciamo a perdere un pochino quel timore eccessivo l'anima non diventa ma non perde mai completamente il timore riverenziale quindi il senso di stare alla presenza di Dio ecco però in nome dell'amore ordinato e confidente capisce al volo diciamo così le disposizioni addirittura di Gesù e desiderando Gesù da noi nient'altro che amore compiere i gesti questo è un gesto materno quindi Luisa fa un ufficio di sostituzione vicara nei confronti della Madonna e Gesù attenzione non accetta non è che dice che vuoi tu voglio non fare queste cose queste cose sono riservate alla Madonna no no l'accetta ecco questi sono squarci di cielo però riteniamo bene noi il discorso sulla fede sulle opere e sulla confidenza profonda che è fondata appunto sull'amore che è l'ultimo atto diciamo così in cui la fede sviluppandosi si compie a cui dobbiamo tendere poi c'è il secondo capitolo ecco che dopo la spiegazione di Gesù sui timori di Luisa di scrivere come lei soleva dire spropositi spiega quindi Gesù parafrasa le parole di San Paolo che Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre nulla le cose che sono l'inadeguatezza degli strumenti è sempre una costante nell'agire di Dio che serve a dare la dimostrazione perpetua e vivente del fatto che quelle cose non sono farina del sacco di chi scrive e qui tutti quanti devono essere cioè questo si ricorda anche che il nostro Signore quando agisce non lo fa in maniera scriteriata tutt'altro insomma cioè Dio l'intelligenza stessa cioè è vero che il Signore ci lascia sempre liberi ma è anche vero che ogni uso della libertà attenzione è strano o contrario a quelli che sono i divini voleti è sempre profondamente irragionevole da stupidi da stolti e questo nostro Signore come dire si mette in condizione di poterlo dimostrare come ecco ti dirà hai letto questi scritti sì sai che questa c'aveva la prima elementare sì hai visto l'italiano questo ce ne accorgiamo anche leggendo le meditazioni insomma io so che per esempio stanno facendo un lavorone in congregazione per fare un'edizio tipica degli scritti di Luisa che ancora non esiste no tra le varie difficoltà e anche come dire queste forme del periodare un po' un po' contorte cioè ma però anche messo in bocca a Gesù no ma però non si dice in italiano eppure qui vedendo la cosa la semplice ma però ti assicuro ecco ecco quindi l'inadeguatezza dello strumento come dire tra virgolette sarà usata da nostro signore per coloro che entrandoci in contatto magari hanno anche il compito di dover esprimere un giurizzatore che vuole non ci credono cioè dice bene figlio può uno che dice ma però non lo so parlare di novità così alta come il fatto che nel fiat supremo si moltiplicano gli atti della creatura a tempo indeterminato che un atto si trasforma in un atto divino che non ci capisce niente a volte neanche chi ha già una buona formazione cristiana una buona cultura teologica ecco una buona come dire un buon impegno nella vita ascetico di santità possibile no che non è possibile ecco e quindi per questo che Gesù la tranquillizza spiegando stai tranquilla perché l'inadeguatezza dello strumento è funzionale ai miei disegni e anche qualora ci fosse qualche qui dobbiamo fare sempre molta attenzione quando si entra in contatto con le rivelazioni private bisogna essere sempre molto cauti uno vede una frase un po' così comincia a dire ah questa non è vera questo è l'eresia questo è qua bisogna sempre stare calmi quindi ricordando chi è che ha scritto quelle cose che quindi c'è uno scarto tra la notizia di origine sopranaturale e come noi la leggiamo uno scarto dipendente appunto dall'inadeguatezza dello strumento per cui prima di attribuire l'eresia alla fonte bisogna innanzitutto vedere se c'è realmente un errore che molte volte sembra che ci sia e invece non ci sta e poi ricordare che c'è un mediatore un mediatore come dire che non è zero quindi usato come strumento completamente passivo Dio queste cose ordinariamente non le fa neanche un prete che celebra la missa uno strumento completamente passivo anche se in quel momento sapete no agisce in persona da Cristi quindi è Gesù che usa la sua umanità per consagrare però il prete deve metterci che deve pronunciare quelle parole deve starci con la capa e tra l'altro deve avere l'intenzione di fare quello che fa la chiesa perché se un prete questo è un caso da scuola non faccia prendere il turbamento mi raccomando a nessuno se un prete celebrasse la messa per scherzo questo è noto insomma la messa non sarebbe valida anche se pronuncia le parole della consagrazione in maniera corretta questo per capire che neanche un prete negli atti in cui lui non fa nulla perché nella consagrazione non c'è niente nel prete la consagrazione avviene perché Gesù Cristo si serve di quell'umanità per operare la transostanziazione basta però non è un'umanità come dire zero quindi totalmente passiva un prete morto a fare la messa ecco per dire così questi strumenti di cui lui ci serve non sono automi completamente passivi e quindi ci vuole sempre molta cautela quando si vede qualche cosa di apparentemente non chiaro critico dubbio poi Gesù conclude con una lezioncina che meriterebbe un'altra meditazione di un'altra mezz'ora ma non possiamo farla che dice il mio retaggio è la fermezza e la stabilità che sono due proprietà imprescindibili nella vita non solo di fede ma soprattutto nel cammino di santificazione se la volontà non è ferma ferma vuol dire risoluta quindi non titubante nei propositi che si impone eccetera non c'è nessuna speranza e soprattutto se non è stabile perché io posso anche avere una volontà ferma e sinceramente ferma e risoluta il problema è che noi esseri umani abbiamo il fattore T che è il fattore tempo perché non basta avere la volontà ferma e risoluta in un giorno di fervore d'accordo? o per due giorni o per tre giorni o per quattro giorni cioè ci deve essere una stabilità ordinaria altrimenti non si raggiunge nessun obiettivo interiore nessuno perché si fanno one step up cantava una canzone di un nuovo cantatore americano negli anni scorsi e two steps back un passo avanti e due indietro ecco un passo avanti e due indietro sappiamo che non si progredisce ma si regredisce quindi la stabilità che poi si estrica nelle due importantissime virtù che sono parti della fortezza che sono la costanza e la perseveranza e è retaggio imprescindibile per percorrere un autentico cammino di santificazione ancora di più evidentemente per vivere e correre nel mondo della divina volontà io non posso passare una giornata a fare i giri dappertutto d'accordo fiat creante fiat santificante fiat redimente eccetera eccetera e il giorno dopo zero non si può meglio che tu fai un giro al giorno d'accordo uno nella creazione uno nella passione e uno nell'opera della santificazione e lo fai tutti i giorni così come sappiamo ogni giorno si rinnova l'atto preventivo ogni giorno si rinnova la consagrazione ogni giorno si rinnova l'atto di fusione quindi la produzione delle virtù dipende sempre dalla ripetizione costante nel tempo degli atti altrimenti le virtù non si piantano non si non attecchiscono nella nostra anima non crescono non mettono le radici non si vedono poi così come il contrario è il lavoro dello svellere le male piante dei vizi che fino a quando siamo in questo mondo non è mai terminato non si vedono non si vedono Grazie a tutti. O Divina Maria abbiamo iniziato questa meditazione contemplando il tuo cuore trasformato in quello di Gesù, bambino, e vedendoti viva nel cuore di Gesù che tanto ti ama. La confidenza che tu avevi in Lui era assolutamente unica, irraggiungibile ed inimitabile così come l'hai vissuta tu. E nessuno più di te sa quanto è vero che un'anima confidente Gesù le fa fare quello che vuole. E tu lo sai molto bene. Aiutaci a giungere a questo termine ultimo di ciò che inizia noi con la fede. Perché possiamo far felice anzitutto il cuore di Gesù, questo deve essere sempre la motivazione primaria delle nostre azioni, che si compiace delle anime che si fidano e che confidano in Lui, ed anche da Lui così largamente ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Concedici anche una grande fermezza e risoluzione e risolutezza di volontà e una grande stabilità con le cose che tu raccomandi di fare, il rosario quotidiano, la messa quotidiana, la confessione per chi vuole diventare santo ogni otto giorni, le pratiche ascetiche fatte con costanza, irregolarità, non anche qui assalti, sono tutte ulteriori indicazioni che tu da eccellentissima quale sei, maestra di spirito, dai ai tuoi figli perché possano realmente santificarsi e non camminare per fuochi di paglia o per momenti di fervore alternati da poco o nulla. Aiutaci sempre al nostro fianco, volgi i nostri occhi verso il tuo esempio e aiuta le nostre anime sempre con la tua intercessione. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.